La Francia del Re Sole La Monarchia Assoluta Nel 1661, alla morte di Mazzarino, Luigi XIV, 23enne, assunse i suoi poteri per intero, deciso a non permettere a nessun altro ministro di acquisire un potere simile a quello di Richelieu o Mazzarino. Luigi XIV scelse i suoi collaboratori nella classe borghese, evitando se possibile la nobiltà sia di spada che di toga. Le tradizionali assemblee di origine medievale, gli stati generali e provinciali, non furono più convocati. Il re non intendeva governare da solo, chiedeva la collaborazione della nobiltà, del clero e della borghesia, ma non accettò più limiti al suo potere. L'origine del potere regio era divina, e Luigi XIV divenne quasi il simbolo della monarchia assoluta, al punto che gli venne attribuita, forse a torto, la frase In Olanda e in Inghilterra, dove le forze della borghesia mercantile erano più sviluppate, i regimi assolutisti furono combattuti e sconfitti. In Francia, la situazione sociale era più complessa. Clero e nobiltà mantenevano una parte rilevante del proprio potere politico, e della propria forza economica. Questi cetti gravavano soprattutto sulle masse contadine, costrette a pagare le tasse allo Stato, i canoni feudali alla nobiltà e la decima al clero. La borghesia esisteva in Francia, ma aveva prevalentemente una funzione amministrativa e professionale. Erano funzionari e giudici statali, avvocati, notai, medici e altri professionisti. Molti di questi vivevano di uno stipendio statale, e quindi erano portati ad essere fedeli alla monarchia, che aveva creato i loro posti di lavoro. Per tale motivo in Francia, tra la borghesia e la monarchia assoluta, non ci fu mai uno scontro paragonabile a quelli avvenuti nei Paesi Bassi e in Inghilterra, dove la borghesia aveva una natura imprenditoriale. I pilastri della monarchia assoluta furono due, la burocrazia e l'esercito. La burocrazia si basava sulla nobiltà di Toga e sugli intendenti, entrambi tutto sommato fedeli al re, e assai competenti sul piano tecnico-giuridico. La nobiltà di Toga controllava le corti di giustizia, civile, penale e amministrativa. Gli intendenti di polizia, di giustizia e di finanza, distribuiti in ogni provincia, furono incaricati di sorvegliare l'applicazione delle ordinanze regge. Grazie a loro, i poteri locali dominati da clero e dalla nobiltà, furono progressivamente esautorati. L'esercito fu oggetto di continue cure, raggiungendo con Luigi XIV il numero di 300.000 soldati. Occorreva una buona amministrazione finanziaria amministrativa per reclutare, istruire, armare e approvvigionare una simile massa di uomini. La cura destinata alle truppe permise di aumentare la disciplina, evitando i problemi avvenuti durante la guerra dei Trent'anni. Le truppe non furono più lasciate libere di saccheggiare i territori, propri e nemici, ma vennero alimentate da magazzini, preparati in tempo di pace. Ogni soldato ebbe un uniforme, che permise di ridurre le diserzioni e di evitare una parte delle violenze. Risultati limitati si ottennero invece in ambito legislativo e finanziario. Ogni provincia riuscì a mantenere le proprie leggi. Similmente, i ceti privilegiati, clero e nobiltà, riuscirono a evitare di contribuire alle spese dello Stato, in rapido aumento. Anche la borghesia faceva di tutto per non pagare le tasse. Di fatto le imposte, la taglia in particolare, ricadero soprattutto sui contadini, che periodicamente insorgevano, senza speranza. Non bastando le tasse, con le guerre ci si dovette indebitare, e la Francia, progressivamente, accumulò un debito pubblico sempre più ampio. Il sistema di Luigi XIV non tollerava il dissenso e imponeva ad ampi settori della società francese di esprimere apertamente il proprio consenso. Non tutti furono d'accordo. Gli oppositori, o meglio i critici, si espressero ancora in termini religiosi. Fu appunto in campo religioso che la volontà uniformatrice del re Sole fu più appariscente. Con la Chiesa Cattolica ci fu un duro scontro. Luigi XIV sostene le tesi gallicane, secondo le quali la Chiesa francese, cioè gallica, doveva essere autonoma dal Papa, il quale rimaneva preeminente per le sole questioni di fede. Lo scontro ebbe successo, anche se poi il re riuscì a restaurare il tradizionale accordo con il Papa. La seconda questione riguardò gli ugolotti. Con il pretesto che ormai non c'erano più protestanti in Francia, l'edito di Nantes fu abolito. Ai protestanti fu vietato di abbandonare il paese e furono sottoposti a varie forme di pressione, come ospitare in casa loro soldati e ufficiali del nuovo grande esercito, per il quale non c'erano ancora caserme sufficienti. Come conseguenza, ben 200.000 calvinisti scapparono in Olanda, Inghilterra e nel Brandeburgo. Molti arrivarono fino in America e in Sudafrica. Con loro se ne andavano notevoli competenze artigianali e commerciali, mentre si diffondeva l'odio verso la Francia. La terza grande questione religiosa fu quella relativa al jansenismo. Si trattava di una corrente cattolica rigorista che si opponeva alla potenza e alla ricchezza, ma anche alla rilassatezza religiosa di una parte dell'alto clero francese. Il jansenismo finiva per assomigliare un po' al calvinismo e, pertanto, fu combattuto dalla chiesa cattolica romana. una volta terminato lo scontro relativo al gallicanesimo, Luigi XIV non ebbe problemi ad intervenire con la consueta durezza. Lo scontro però proseguì anche dopo la sua morte, fino alla metà del secolo, mescolandosi ad altre questioni di carattere fiscale. Contro la nobiltà Luigi agì in maniera più sottile, evitando scontri duri come quelli che avevano portato Mazzarino a battersi contro la fronda dei nobili. Il principale strumento fu la costruzione della grandiosa reggia di Versailles. Gran parte della nobiltà si trasferì dentro al colossale palazzo, allontanandosi dai propri feudi, dove aveva ancora potere e prestigio, e venendo irretita dai giochi di corte, conducendo una vita dispendiosa e vuota, legata all'etichetta e alle rigide norme sulle precedenze e i favori del re. In tal modo i nobili finirono per diventare dei cortigiani, alla costante ricerca di favori o pensioni. Versailles fu anche uno strumento per legare assai il mondo dell'arte e della cultura. Pittori, scultori e architetti, ma anche poeti letterati, furono chiamati a corte nell'ambito di una grandiosa politica mecenatista. Per chi restava fuori c'era invece un rigido controllo. La stampa fu soggetta alla censura, gli editori furono controllati. Un sistema di monopoli e privilegi permetteva al governo regio di intervenire pesantemente nella vita culturale del paese piegandola ai desideri del re.